ciao amici un saluto da me da rebecca e vi aspetto giovedì 31 agosto a torre a mare capaccio pestum perché ci sarà una bellissima serata la giornata per la vita quindi una giornata ricca di amore ricca di gioia verso la vita e di beneficenza vi aspetto e non mancate perché se ci aiutiamo tra di noi il mondo sicuramente diventerà migliore giovedì 31 agosto alle ore 20 che aspetto a torre a mare a capaccio pestum presso la villa comunale di sant'anna io ci sarò e vieni anche tu ciao capaccio pestum ciao